Presentiamo il numero di araberare in edicola, cito soltanto alcune delle cose importanti e soprattutto quella portante sulle prime, seconda e terza pagine dedicata al Natale e alla Chiesa in modo particolare con le poesie in esclusiva che ci ha mandato apposta Alda Merini e poi l'intervista a Monsignor Sigalini, Domenico Sigalini che è il Vescovo di Palestrina ma soprattutto è assistente generale ecclesiastico dell'Azione Cattolica e il più autorevole esperto della pastorale giovanile e poi abbiamo sempre in questa pagina gli interventi dei vari parroci, dei vari arcipreti delle nostre zone per quanto riguarda appunto la Chiesa e in prima pagina ne portiamo il disegno di Angelo Celsi, il pittore sovarese che lavora però in Svizzera e appunto con un'altra delle poesie di Alda Merini poi il pagellone 2007 dei sindaci, noi lo facciamo da alcuni anni, il pagellone di tutti i sindaci noi diamo questi giudizi, questi voti con giudizi che sono ovviamente opinabili sono i nostri voti, i nostri giudizi in base alla capacità o alla possibilità di comunicazione che hanno avuto i sindaci, cioè mandandoci le cose io sto facendo questo e non sto facendo quest'altro e quindi noi ci basiamo su questo e non per altro dopo ognuno sarà naturalmente libero di giudicare il proprio sindaco sulle cose che vede in un altro modo ovviamente essendo sul posto il 2007 raccontato da Araberara è un riassunto quasi appena per temi, per titoli di quello che noi abbiamo raccontato e dei temi che abbiamo affrontato durante l'anno con l'avvertenza che non sono così asettici come sembrano basterebbe andare a leggerli perché i più scafati possano leggere anche le anticipazioni che avevamo dato in alcuni mesi, alcune volte con mesi di anticipo su cose poi avvenute regolarmente ecco queste sono le parti diciamo portanti del giornale che anche questa volta è un giornale piuttosto voluminosi vi segnalo agli editoriali salvate i bimbi e salverete il mondo il titolo non è dei migliori cioè non riassume invece la realtà del bambino dei bambini, dell'innocenza della capacità loro di cancellare le lacrime di cancellare l'umidità dai vetri quelle cose che per far vedere oltre e anche insomma la nostra capacità di rifarci i bambini e c'è un bellissimo apologo di Woody Allen che racconta Aristea Canini appunto alla fine pensate come sarebbe bello se noi cominciassimo dalla fine della nostra vita e ritornassimo dentro finendo anche provocatoriamente dicendo un orgasmo perché? Perché ricomincierebbero sul letto d'ospedale o sul letto di morte e poi ritornando indietro godendoci la pensione e poi cominciando a lavorare nel pieno vigore delle nostre forze ritornando poi ragazzi andando a scuola a vedere con un'altra curiosità con la consapevolezza di aver vissuto già qualcosa e di goderci quindi la cultura e poi ritornare prima di tutto il gioco da bambini ritornare innocenti completamente appunto fino a scomparire dentro questo vabbè è bellissimo una cosa di ritornare con la capacità di vedere il mondo con gli occhi dei bambini e poi andano un ridicolo bamboccio e Peppi Fornoni come al solito capace di critica e di poesia nello stesso momento assumi mascherato dai potenti e nagual benedetta gente benedetta gente vi faccio vedere due posti di rimpettai mi sono ispirato lo capiranno i lettori perfettamente in questo caso a Lovere dove ci sono due porte di rimpettaie una dalla parte dell'ospedale che cura il corpo cerca di curare il corpo dall'altra parte un monastero che medica l'anima e da una parte bisogna prendere bisogna prendere degli appuntamenti e dall'altra parte si va lì e il primario ti ascolta non risponde sempre forse non sentiamo bene le risposte non abbiamo la capacità dall'altra parte si aspetta il Natale come in tutte le nostre case e dall'altro lato della strada forse non è mai neanche partito non è mai neanche andato non c'è nessuno da aspettare perché ci è sempre stato va bene cose di questo genere e anche parlo poi di altre di mucillagini e cose così la fabbrica dei presepi la fabbrica dei presepi è la storia è incredibile anche questa perché noi non ci accorgiamo di questi piccoli miracoli anche economici di uno che è partito facendo il presepi per la parrocchia adesso ha una fabbrica di presepi e fa addirittura i presepi a Bologna a Venezia va in giro a fare i presepi nelle città a Milano a fare presepi gli commissionano i presepi e lui fa dei grandissimi presepi che poi affitta o vende a queste grandi associazioni comuni eccetera per i presepi e si fabbricano lì sul confine tra Endine e Sovere pensate mai più pensando e in questi giorni erano in giro per mezza Italia a portare i presepi già commissionati e fabbricati e poi con le nuove invenzioni perché si va in fiera dei presepi pensate a gennaio non sapevo queste cose addirittura la fiera dei presepi a gennaio perché poi devono preparare tutta la roba per l'autunno per quando arriva il momento appunto dei presepi e anche alcune storie che abbiamo sempre dentro noi queste storie che raccontiamo di personaggi di persone e una di queste storie è quella di un ragazzo di uno che è stato ragazzo è stato giocato in Serie A di Rabi in Francia dove Rabi era lo sport era soprattutto lo sport nazionale adesso è a pari con lo calcio lo sport nazionale e questo ragazzo aveva delle grandi possibilità è migrato da Castione è migrato là e ha fatto tutte le scuole ha giocato là giocava in una squadra fantasiosissima che era stata nel ricordi al punto che nel 1999 le hanno ridedicato questa storia a questa squadra i diciottenni hanno dedicato un paginone su un giornale locale di St. Claude hanno dedicato questo paginone nel ricordo di un gioco spumeggiante come non l'hanno più visto e questo ragazzo però dopo è tornato in Italia ha fatto il militare qui si è installato che non ha voluto giocare a Rabi in Italia perché ha detto quando è andato a vedere ha detto ma questo non è un gioco non è mica questo qui il Rabi eravamo indietro adesso stiamo un po' rimontando anche questo ma su storie di gente che ha avuto questo passato e che quasi l'ha tenuto anche nascosto e poi dopo un giorno emerge perché qualcuno gli va a chiedere qualcosa e lui dice ah sì 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 ho giocato come ho giocato e vabbè siamo avanti per quanto riguarda le zone invece non voglio entrare perché siamo in crimine natalizio e allora vi leggo soltanto per finire una poesia di Alda Merini una delle tre poesie che pubblicammo di Alda Merini non quella in prima pagina quella all'interno diciamo è amore furente l'ora più solare per me quella che più mi prende il corpo quella che più mi prende la mente quella che più mi perdona è quando tu mi parli sciarate infiniti infiniti animi una così devastante arsura un tremito da far paura che mi abita il cuore rumori di pelle sul pavimento come se cadessi sfinita da me si diparte la vita ed un bianchissimo armento io pastora senza giudizio di te amor mio mi prendo il vizio vizio che prende un bambino vizio che prende l'adolescente quando l'amore è furente quando l'amore è divino buon Natale buon anno